Sindrome di Duane Condizione morbosa caratterizzata da un disordine congenito della mobilità oculare, assenza dell'abduzione, retrazione del globo oculare, restringimento della fessura palpebrale durante l'adduzione, in associazione con sordità e anomalie riduttive del raggio radiale, talvolta ipoplasia dell'omero, intelligenza e statura normali. La malattia si trasmette con un'eredità autosomica dominante. Sindrome di Duane Bambina di 14 mesi Figlia del caso B Strabismo e retrazione del globo oculare sinistro con deficit di convergenza Pollice ipoplasico Donna di 26 anni Madre del caso A Occhio sinistro più piccolo del controlaterale e infossato